Ciao e bentornato nel mio canale. In questo video voglio rispondere alle domande più frequenti che mi avete inviato nel Q&A che ho lanciato proprio qualche giorno fa sui social. In genere non amo tanto parlare di me e della mia vita privata, ma mi piacerebbe rispondendo a queste domande raccontarti come vivo personalmente concetti come organizzazione, decluttering, riordino, minimalismo, essenzialità e così via. Ma prima di farlo, se è la prima volta che guardi uno dei miei video mi presento, ciao sono Chiara e sono una professional organizer e nel mio canale ti descrivo i modi in cui un professionista dell'organizzazione come me può aiutarti a semplificare e migliorare la tua vita grazie all'organizzazione. Per non perderti quindi tutti i miei video sull'organizzazione iscriviti subito al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti proprio qui sotto. Una delle domande che mi fate spesso è se il lavoro come professional organizer è la mia attività principale o se faccio anche altro nella vita. Allora sì, è la mia attività principale nel senso che occuparmi di organizzazione è la mia attività principale, sia come dipendente che come libera professionista. Infatti sono assunta come dipendente in corretà di assistente personale di un architetto di Milano molto impegnato, molto incasinato e casinista e anche accumulatore, essendo anche un collezionista d'arte. Tra parentesi lo adoro. Mi occupo in sintesi della gestione della sua agenda, di risolvere il più possibile e soprattutto di evitare i suoi problemi lavorativi e personali. E poi offro la mia consulenza come libera professionista a tutte quelle persone che, prendendo consapevolezza del bisogno di introdurre una maggiore organizzazione nella propria vita, sentono la necessità di un supporto di un professionista per imparare a organizzarsi al meglio, per alleggerire e semplificare la propria vita da oggetti, pensieri, impegni che appesantiscono il loro quotidiano. Una domanda che mi fate spesso è se mi considero una minimalista, perché in effetti spesso alla parola decluttering si associa la parola minimalismo. E io stessa ammetto che, nella prima fase in cui mi sono approcciata al decluttering, credevo che, per goderne appieno i benefici, avrei dovuto liberarmi di ogni cosa in eccesso. Dove però il concetto di eccesso e di superfluo era anche per me ancora molto vago. In realtà, col tempo ho realizzato che superfluo è un concetto assolutamente personale. Quello che per me è superfluo non è detto che lo sia per te. Fondamentalmente, superfluo è tutto ciò che non ha valore per noi, ma che in un modo o nell'altro appesantisce le nostre case e le nostre vite, sottraendo non solo spazio, ma privandoci anche di tempo e di energie per dovercene occupare. Quindi, quando dite, lo so, dovrei eliminare tutto, io vi dico, fermi un attimo, fate un respiro e prendete consapevolezza di cosa è veramente importante per voi, cosa ha valore per voi. E questo avrà tutto il diritto di occupare uno spazio nella vostra casa e nella vostra vita. Altrimenti, eliminatelo senza rimpianti. Una domanda che mi fate spesso è come faccio a mantenere l'ordine in casa vivendo con due bambini. Ecco, in effetti ho due bambini piccoli di 5-2 anni e mentirei, come tutte le mamme e i papà sanno benissimo, se dicessi che è semplice farlo. Però, posso dire, prima di tutto, che la maternità, in primis, mi ha fatto fare proprio un passo avanti nel mio percorso di decluttering. Perché? Che cos'è la maternità e la paternità se non proprio il fare spazio alle cose belle che è proprio l'obiettivo del decluttering? In vista dell'arrivo dei miei bambini ho dovuto, infatti, inevitabilmente liberare spazio per fare spazio ai nuovi arrivati, buttando via un sacco di cose inutili e accumulate nel tempo. Per esperienza diretta e indiretta, posso infatti dire che la maternità e la paternità, così come altri eventi importanti della vita, sono proprio la motivazione giusta per intraprendere un percorso di decluttering, di semplificazione e di riordino. Come faccio poi a mantenere questo ordine? Principalmente coinvolgendo loro direttamente nel riordino delle loro cose, assegnando loro piccoli compiti, ovviamente alla loro portata, che li responsabilizzino delle loro cose e li rendano il più possibile autonomi. E anche questa ritengo che sia una forma di educazione. Una domanda che mi fate spesso è come faccio tra lavoro e famiglia a trovare anche il tempo per fare tutte quelle belle cose di cui vi parlo nei video e nei miei post. Leggere, fare sport, coltivare i miei hobby, cucinare e mangiare cibo sano, eccetera. Allora, premessa, non sono perfetta, né voglio assolutamente passare il concetto di perfezione da inseguire a tutti i costi. Anch'io ovviamente ho le mie debolezze, i miei momenti no, i periodi di particolare stanchezza e anche di mancanza di motivazione e così via, come tutti. E non sempre riesco a portare a termine i compiti e gli obiettivi che mi sono prefissata. Però posso dire nel tempo di essermi incostruita a un sistema di organizzazione di cui posso fidarmi, fatto per esempio di routine strutturate, di strumenti salvatempo, di stratagemmi che mi semplificano la vita e così via. E la cosa bella è che possono farlo tutti, basta volerlo e basta metterci costanza e determinazione. Una domanda che mi inviate spesso è come mi organizzo per l'attività sportiva, soprattutto in un periodo come questo di chiusura palestre e anche di forti limitazioni. In effetti, così come descrivo sempre nei miei video e nei miei post, l'attività sportiva così come ho uno stile di vita sano sono delle componenti fondamentali per la mia vita, sia per il mio equilibrio psicofisico ma anche per la mia produttività. E soprattutto in questo periodo in cui le palestre sono chiuse, le limitazioni sono sempre più stringenti. È ancora più fondamentale per me avere una buona organizzazione, che non nego essere fatta anche di qualche piccolo sacrificio, come lo svegliarmi molto presto al mattino per esempio, e anche da una forte costanza e anche determinazione. Sto seguendo in questo periodo degli allenamenti da casa attraverso dei video su dei canali YouTube assolutamente gratuiti, con la comodità quindi di poterlo fare dal mio soggiorno di casa, senza dovermi spostare, ottimizzando quindi il tempo e anche gli spostamenti. E questa è una buona abitudine che probabilmente mi porterò anche in futuro, ho superato questo periodo. Una domanda che mi inviate spesso è come sto vivendo questo periodo storico di pandemia. Ecco, premesso che posso ritenermi tra i più fortunati, perché al momento né io né i miei cari sono stati toccati dal dramma che ahimè stanno invece vivendo tante persone. Sto vivendo questo periodo come immagino la maggior parte delle persone, tra l'incertezza del domani, la mancanza di punti di riferimento stabili e la paura che tutto possa degenerare. Però a questi sentimenti alterno anche dei momenti di forte lucidità, che cerco di sfruttare al massimo principalmente per studiare, conoscere, approfondire molto di più rispetto a quanto facevo prima, perché sicuramente il tempo a disposizione è aumentato e le distrazioni sono sempre meno. E poi ne approfitto per pormi degli obiettivi a brevissimo termine, non potendo, dico purtroppo per la mia natura programmatrice, pormi degli obiettivi a lungo termine. Sto anche scrivendo, scrivo molto, un diario, come non facevo dai tempi del liceo, in cui mi impegno a riconoscere dopo ogni giornata almeno tre cose belle che mi sono capitate, così da focalizzarmi sui piccoli successi portati a casa dopo ogni giornata e coltivando anche il pensiero positivo. Ecco, queste sono le domande e le risposte che ho selezionato da condividere con te in questo video. Mi scuso ancora una volta per non essere ancora riuscita a rispondere a tutti, ma prometto che lo farò. Intanto grazie davvero per il tuo interesse e per l'affetto che mi dimostri seguendo i miei video e i miei canali social. Ti saluto inviandoti un abbraccio virtuale e ti aspetto alla prossima. Ciao, presto!